Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi volevo recensire la nuova serie della lego che è la serie 16 ed è questa qui, l'ho appena comprata e quindi sono curiosissima di vedere i vari personaggi come sono fatti ed ho già un paio di personaggi che mi piacciono tantissimo come per esempio il diavoletto, la regina dei ghiacci, il uomo pinguino e il bebè. Allora partiamo subito, la confezione è gialla come potete vedere e è la serie 16 appunto, sono 16 personaggi da collezionare e all'interno c'è un lego minifigure, io l'ho andiamo subito ad aprirla e a vedere che personaggi si possono trovare in queste blind bag, allora prendiamo la checklist, io non l'ho scelto, l'ho preso, l'ho pescato a caso e questi sono i personaggi, questo è bello, ok allora c'è la regina dei ghiacci che secondo me è bellissima, poi c'è lui, questa specie di guerriero tecnologico all'avanguardia, non lo so, poi c'è il bambino travestito da diavoletto, l'emo, cioè non è proprio l'emo, è un personaggio oscuro, mettiamola così, l'esploratore, l'eschimese, è carino, la pugilessa, almeno sì, è una donna, il pirata, l'uomo pinguino, penso che sia una mascotte, non lo so, l'arciere, e questo è un uomo che ha vinto una coppa delle gare dei cani, tanto per spiegarla insomma, il messicano, che suona, questa dovrebbe essere una spia, l'uomo banana, e è la madre con il bebè, che belli che sono, piacerebbe tantissimo trovare la regina dei ghiacci, questo qui, il bambino diavoletto, e anche la madre, carina, sì, sono un po' tutti bellini devo dire, vediamo che cosa ho trovato, eh, ti pareva, l'uomo che ha vinto la gara dei cani, che era l'unico che non mi interessava, vabbè, lo scambierò, adesso ve lo faccio vedere, beh, è fatto benissimo però, mi piace, è fatto veramente bene, però insomma non è che mi interessasse così tanto, vabbè, oh, ok, eh vabbè, il cane qua, si appoggia solo, e poi emano la coppa, eccolo qui, beh, è fatto bene, per quello sì, guardate, è fatto veramente benissimo, però va bene, dai, no, sono fatti veramente bene, quelli della leggo non deludono mai, bellino, bene, io penso che ne prenderò altri, magari altri due, però questa volta li tasto, non li scelgo a caso, così magari trovo quelli che mi piacciono anche, e niente, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!